Capitolo 25 Sejanus sobbalzò, e Coriolanus non poteva fare a meno di riconoscervi un gesto colpevole, in quel muoversi di scatto e spazzolarsi via la polvere dall'uniforme. Billy Tope, invece, si rimise in piedi in tutta calma, quasi con indolenza, per affrontarli. «Beh, ma guarda un po' chi ha deciso di parlare con me», disse, rivolgendo un soggino nervoso a Lucy Gray. Era la prima volta che comunicavano di persona dopo Younger Games. «Sejanus, moda Ivory, è arrabbiatissima con te per aver abbandonato quelle noci», lo rimproverò la ragazza. «Sì, mi sono sottratto al mio dovere», Sejanus tese la mano a Billy Tope, che non esitò a stringergliela. «Piacere di averti conosciuto». «Piacere mio! Certi giorni puoi trovarmi dalle parti del forno se vuoi fare altre due chiacchiere», rispose Billy Tope. «Me lo ricorderò», disse Sejanus avviandosi verso la casa. Lucy Gray lasciò andare la mano di Coriolanus e si preparò a tenere testa a Billy Tope. «Vattene e non tornare!» «Oppure, Lucy Gray, mi aizzerai contro i tuoi pacificatori?» Si mise a ridere. «Se sarà necessario», replicò lei. Billy Tope girò la testa per guardare Coriolanus. «A me sembrano due tipi piuttosto mansueti». «Tu non capisci! Non si può tornare indietro», disse lei. Billy Tope si infuriò. «Non sono stato io a cercare di ucciderti, ma frequenti ancora la ragazza che l'ha fatto», ribatté Lucy Gray. «Ho sentito dire che ti sei sistemato bene a casa del sindaco». «Chi è che all'inizio mi ha mandato là, eh? Mi fa schifo come imbrogli i ragazzi!» «Povera Lucy Gray! Povero agnellino!», disse in tono di scherno. «Non sono stupidi. Anche loro vogliono che tu te ne vada», ringhiò lei. La mano di Billy Tope si allungò di scatto, afferrandole un polso e attirando Lucy Gray a sé. «E dove dovrei andare di preciso?» Prima che Coriolanus potesse intervenire, lei affondò i denti nella mano di Billy Tope, strappandogli un grido e obbligandolo a liberarla. «Non mi sembra che sia tanto sola neanche tu», disse poi il ragazzo, lanciando uno sguardo truce a Coriolanus, che si era portato accanto a lei con fare protettivo. «È il tuo amichetto di Capitol City, questo? Ti è corso dietro fin qui? Beh, lo aspetta qualche sorpresa. So già tutto di te». In realtà non era affatto così, ma dirlo fece sentire Coriolanus un po' meno in posizione di svantaggio. Billy Tope scoppiò in una risata incredula. «Di me? Io sono il bocciolo di rosa in questo mucchio di letame». «Perché non te ne vai come ti ha chiesto», disse Coriolanus gelido. «Benissimo, imparerai». Billy Tope raccolse le sue cose tra le braccia. «Imparerai molto presto». Poi si allontanò a grandi passi nel mattino torrido. Lucy Gray rimase a guardarlo, sfregandosi il polso che le aveva stretto. «Se vuoi scappare, questo è il momento giusto». «Non voglio scappare», replicò Coriolanus. «Anche se lo scambio tra i due era stato un po' preoccupante. È un verme bugiardo. Sì, io ci vetto con tutti. Fa parte del mio lavoro. Ma quello che insinua lui non è per niente vero». Lucy Gray si voltò a guardare la finestra. «E se anche fosse? Se l'alternativa fosse lasciar morire di fame Mod Ivory, né io né lui avremmo mai permesso che accadesse, a prescindere da ciò che richiedeva. Solo che le regole che valgono per lui non valgono per me. Come sempre. Quello che fa di lui una vittima rende me spazzatura». Le parole di Lucy Gray riportarono in vita inquietanti ricordi della sua conversazione con Tigris e Coriolanus si affrettò a cambiare argomento. «Frequenta la figlia del sindaco adesso?» «Sì, l'ho mandato là per racimolare qualche soldo dando le lezioni di piano. E un attimo dopo il paparino di lei chiama il mio nome alla mietitura. Non so bene cosa gli abbia raccontato, ma il sindaco andrebbe fuori di testa se sapesse che la figlioletta se ne va in giro con Billy Top. Beh, sono sopravvissuta a Capitol City, ma non per tornare qui e trovarmi nella stessa situazione». Qualcosa nei suoi modi. La schiettezza della sua sofferenza convinse Coriolanus. Le sfiorò il braccio. «Fatti una nuova vita, allora?» Lei intrecciò le dita alle sue. «Una nuova vita, con te». Ma sopra di lei rimaneva sospesa una nuvola. Coriolanus le diede un colpetto con il gomito. «Non abbiamo una capra da mungere?» Il viso di Lossigrei si distese. «Sì». Lo guidò di nuovo in casa, ma scoprì che Modaivori aveva portato fuori Sejanus per insegnargli a mungere Shemus. «Non poteva rifiutarsi dopo essersi messo nei guai per aver parlato con il nemico», spiegò Barbasor. «Prese dal vecchio frigorifero un tegame di latte freddo, lo posò sul tavolo e lo studiò. Clerc Carmine recuperò da uno scaffale un vasetto di vetro con una specie di marchigegno in cima. Una manovella fissata al coperchio sembrava muovere delle palette all'interno. «Cosa ci fate con quello?» chiese Coriolanus. «Un'impresa disperata», Barbasor rese. «Stiamo provando a ottenere abbastanza panna da farci il burro. So che il latte di capra non si separa come quello di mucca». «Se magari gli dessimo un altro giorno», disse Clerc Carmine. «Beh, sì, forse». Barbasor rimise il tegame nel frigorifero. «Abbiamo promesso a Moe Divory che ci avremmo provato. Lei va matta per il burro. Tamember ha fabbricato la zangola per il suo compleanno. Staremo a vedere», disse Lucy Gray. «Coriolanus giocherellò con la manovella. Quindi? In teoria, quando abbiamo abbastanza panna, giriamo la manovella e le pagaie sbattono il contenuto e lo trasformano in burro», spiegò Lucy Gray. «Beh, così ci hanno detto almeno. Sembra che ci voglia un sacco di lavoro». Curiolanus pensò ai bei pezzetti di burro tutti uguali che si era servito dal buffet il giorno della mietitura, senza chiedersi nemmeno per un attimo da dove venissero. «È vero, ma ne varrà la pena se funziona. Moe Divory non dorme bene da quando mi hanno portata via. Pare che stia informissima durante il giorno e poi di notte si sveglia urlando», gli confidò Lucy Gray. «Cerchiamo di instillare un po' di felicità nella sua testa». Barbe Isur filtrò il latte fresco portato da Sejanus e Moe Divory, poi lo versò in grosse tazze mentre Lucy Gray divideva il pane. Curiolanus non aveva mai bevuto latte di capra, ma Sejanus schioccò le labbra, dicendo che gli ricordava la sua infanzia nel distretto 2. «Io ci sono mai andata nel distretto 2?» chiese Moe Divory. «No, piccola, quello è a ovest. I covey stavano più a est», rispose Barbe Isur. «A volte andavamo a nord», intervenne Tam Ember, e Curiolanus si rese conto che era la prima volta che lo sentiva parlare. «In quale distretto?» chiese. «Nessuno, in realtà», disse Barbe Isur. «Andavamo in posti che a Capitol City non interessavano. Curiolanus si sentì a disagio per loro. Posti del genere non esistevano, non più almeno. Capitol City controllava tutto il mondo conosciuto. Per un attimo immaginò un gruppo di persone vestite di pellicce che sbarcavano in lunario in una grotta da qualche parte. Poteva accadere, pensò, ma quella vita sarebbe stata un gran passo indietro persino rispetto ai distretti. A malapena umana! È probabile che ci avrebbero obbligati a fermarci anche lì come qui», osservò Clerc Carmine. Barbe Isur fece un sorriso triste. «Dubito che lo sapremo mai». «Ce n'è dell'altro. Ho ancora fame», si lamentò Mod Ivory, ma il pane era finito. «Prendi una manciata delle tue noci», le disse Barbe Isur. «Ci daranno da mangiare al matrimonio». Coriolanus scoprì, a malincuore, che i covi erano impegnati per quel pomeriggio. Dovevano suonare per un matrimonio in città. Aveva sperato di stare di nuovo da solo con Lucy Gray, per parlare ancora e più dettagliatamente di Billy Taup, della sua storia con lui e dell'esatta ragione per cui poteva aver disegnato una piantina della base nel terriccio. Ma tutto questo avrebbe dovuto aspettare, perché i covi cominciarono a prepararsi per lo spettacolo non appena i piatti furono lavati. «Mi dispiace mandarvi via tanto presto, ma è così che ci guadagniamo il pane». Lucy Gray vide Coriolanus e Sejanus avviarsi verso la porta. «Si sposa la figlia del macellaio, e noi dobbiamo fare buona impressione. Ci sarà gente con soldi a sufficienza per offrirci lavoro. Potete venire con noi e aspettarci, immagino, ma questo potrebbe... dare vita a dei pettegolezzi», concluse Coriolanus. «Felice che fosse stata lei per prima a suggerirlo. Forse è meglio se rimani tra noi. Quando posso rivederti? Quando vuoi. Ho la sensazione che la tua tabella di marcia sia un po' più impegnativa della mia. Suonate al forno sabato prossimo? Se ce lo permettono. Dopo ieri sera». Si accordarono perché lui arrivasse il più presto possibile, così avrebbero avuto qualche minuto prezioso per loro prima dello spettacolo. «C'è un capanno che usiamo noi appena dietro il forno. Puoi trovarci lì. Se non c'è lo spettacolo, invece, vieni direttamente qui a casa». Coriolanus aspettò finché lui e Sejanus non raggiunsero le stradine deserte vicino alla base prima di sollevare l'argomento Billy Top. «Allora? Cosa avevate da raccontarvi, voi due?» «Niente, in realtà, rispose Sejanus a disagio, solo qualche pettegolezzo locale. E richiedeva una piantina della base?» Sejanus si fermò all'improvviso. «Non perdi mai un colpo, vero? Me lo ricordo a scuola. Ti vedevo mentre osservavi gli altri. Fare finta di non stare guardando e scegliere con estrema cura il momento giusto per intervenire. Intervengo adesso, Sejanus. Perché eri così impegnato a discutere con lui sopra uno schema della base? Cos'è? Un simpatizzante dei ribelli?» Sejanus distolse lo sguardo. Quindi Coriolanus proseguì. «Che interesse può mai avere per una base di Capitol City?» Sejanus fissò il terreno per un attimo, poi disse «Si tratta della ragazza dell'impiccagione. Quella che hanno arrestato l'altro giorno, Lil, è rinchiusa lì. E i ribelli vogliono metterla in salvo?» incalzò Coriolanus. «No, vogliono solo comunicare con lei, accertarsi che stia bene», spiegò Sejanus. Coriolanus tentò di tenere la rabbia sotto controllo. «E tu gli hai detto che li avresti aiutati?» «No, non ho fatto promesse. Ma se riesco, se mi trovo dalle parti del corpo di guardia, magari posso scoprire qualcosa. La sua famiglia è disperata.» «Ah, magnifico! Fantastico! Perciò adesso sei un informatore dei ribelli!» Coriolanus si allontanò lungo la strada. «Credevo che avessi lasciato perdere tutta quella storia.» Sejanus lo raggiunse. «Non posso, va bene. Fa parte di ciò che sono. E sei tu ad aver detto che avrei potuto aiutare la gente dei distretti, se avessi accettato di uscire dall'arena.» «Sono convinto di aver detto che avresti potuto batterti per i tributi, intendendo che forse saresti riuscito a ottenere condizioni più umane per loro», lo corresse Coriolanus. «Condizioni umane!» esclamò Sejanus. «Ma se sono costretti a uccidersi tra loro? E poi anche i tributi vengono dai distretti. Perciò non vedo proprio che differenza ci sia.» «Controllare come sta quella ragazza è una piccola cosa, Corio.» «Evidentemente no», ribatté Coriolanus. «Non per Billy Tope, in ogni caso. Altrimenti, perché avrebbe cancellato la piantina così in fretta? Perché sa cosa ti chiede. Sa che sta facendo di te una spia. E sai cosa succede alle spie? Pensavo solo «No, Sejanus, tu non pensi affatto», esplose Coriolanus. «E la cosa ancora peggiore è che ti stai legando a gente che a sua volta non sembra in grado di pensare.» «Billy Tope! Che interesse ha lui in questa faccenda? Denaro? Perché a sentire quello che dice Lucy Gray, i covi non sono dei ribelli né parteggiano per Capitol City. Sono più che decisi a conservare la loro identità, qualunque essa sia.» «Non lo so. Lui ha detto che... che chiedeva per conto di un amico», balbettò Sejanus. «Un amico!» Coriolanus si accorse che stava urlando. Così abbassò la voce in un sussurro. «Un amico del vecchio Arlo? Che ha scatenato le esplosioni nelle miniere? Quello sì che è stato geniale, come piano. Che risultato sperava di ottenere? Non hanno risorse. Niente che permetterebbe loro di dare inizio a una nuova guerra. E nel frattempo sputano nel piatto in cui mangiano. Perché cosa mangerebbero qui nel dodici senza quelle miniere? Non è che trabocchino di alternative. Che razza di strategia era? Una strategia indotta dalla disperazione. Guardati intorno!» Sejanus lo afferrò per un braccio, obbligandolo a fermarsi. «Per quanto ancora pensi che possano andare avanti così?» Coriolanus sentì montare un'ondata d'odio, ripensando alla guerra, alla devastazione che i ribelli avevano portato nella sua vita. Liberò il braccio con uno strattone. «Hanno perso la guerra. Una guerra iniziata da loro. Hanno accettato di correre quel rischio. E questo è il prezzo che pagano.» Sejanus diede un'occhiata in giro, come se non sapesse bene in quale direzione andare. Poi si lasciò cadere contro un muro crollato lungo la strada. Coriolanus aveva la spiacevole sensazione di avere in qualche modo assunto il ruolo del vecchio strabo Plint nell'infinita discussione riguardo a chi Sejanus dovesse la sua lealtà. Ma lui non si era arruolato per questo. D'altra parte, se Sejanus avesse trasgredito le regole anche lì, chissà come sarebbe finita. Coriolanus si sedette al suo fianco. «Senti, io credo che le cose miglioreranno sul serio, ma non così. Va meglio in generale, perciò andrà meglio anche qui, ma se non continuano a far saltare in aria le miniere. Quello serve solo ad aumentare il numero dei morti.» Sejanus annuì e i due rimasero a guardare bambini cenciosi che passavano tirando calci a una vecchia lattina. «Credi che mi sia macchiato di tradimento?» «Non ancora», rispose Coriolanus con un mezzo sorriso. Sejanus diede uno strattone alle erbacce che uscivano dal muro. «La dottoressa Gol crede di sì. Mio padre è andato a trovare lei prima di presentarsi al decano High Bottom e al collegio dell'Accademia. Lo sanno tutti che chi comanda davvero è lei. E' andato a chiederle se poteva concedermi la stessa opportunità che aveva concesso a te di arruolarmi nei pacificatori.» «Pensavo fosse stato automatico», osservò Coriolanus. «Se sei stato espulso come me.» «Era quello che sperava mio padre, ma lei gli ha detto non metta sullo stesso piano le azioni dei due ragazzi. Un errore di strategia non è paragonabile a un atto sovversivo a sostegno dei ribelli.» Nella sua voce si insinuò un tono amaro. E così è comparso un assegno destinato a un nuovo laboratorio per i suoi ibridi. Deve essere stato il biglietto per il distretto 12 più costoso della storia.» Coriolanus fischiò piano. «Una palestra e un laboratorio.» «Di quello che vuoi, ma per la ricostruzione di Capitol City ho fatto più io del presidente in persona», scherzò senza entusiasmo Sejanus. «Hai ragione tu. Sono stato stupido. Di nuovo. Starò più attento in futuro. Qualunque cosa mi riservi.» «Probabilmente della mortadella alla piastra», replicò Coriolanus. «Bene, allora fammi strada», disse Sejanus. E insieme ripresero il cammino verso la base. Quando rientrarono, i loro compagni di camerata si erano appena alzati dal letto. Sejanus portò fuori pertica per allenarsi. Smiley e Bug andarono a vedere cosa succedeva nella sala comune. Coriolanus pensava di trascorrere le ore libere fino alla cena, studiando per il test da aspirante ufficiale, ma la sua conversazione con Sejanus gli aveva fatto venire un'idea, che crebbe alla svelta, fino a spazzare via tutto il resto. La dottoressa Gol lo aveva difeso. Beh, non proprio difeso, ma si era assicurata di far capire a Strabo Plint che Coriolanus rientrava in una categoria completamente diversa da quella del suo irresponsabile figlio. Il crimine di cui si era macchiato, lui, era stato solo un errore di strategia, cosa che non sembrava un granché come crimine. Possibile che la Gol non lo avesse completamente messo da parte. Gli era sembrato che si sforzasse di istruirlo durante i giochi, che lo avessi scelto. Sarebbe valsa la pena di scriverle adesso solo per… solo per… beh, non sapeva cosa sperasse di ottenere. Ma chissà se in futuro, magari quando fosse diventato un ufficiale di una certa importanza, il loro cammino non si sarebbe incrociato di nuovo. Non c'era niente di male a scriverle. Gli avevano già tolto tutto quello che poteva avere un valore. Il peggio che poteva fare lei era ignorarlo. Coriolanus succhiò la penna mentre tentava di mettere ordine nei suoi pensieri. Doveva cominciare con delle scuse? Perché? Avrebbe capito che non gli dispiaceva di aver cercato di vincere con ogni mezzo, ma solo di essere stato scoperto. Meglio evitarle del tutto le scuse. Poteva raccontarle la sua vita lì alla base, ma gli sembrava troppo banale. Le loro conversazioni, se non altro, erano sempre state di un certo livello. Una continua lezione a suo esclusivo vantaggio. E a quel punto ci arrivò. Quello che doveva fare era proseguire con la lezione. Dove erano rimasti? Al suo tema di una pagina sul caos, il controllo e... Qual era il terzo? Faticava sempre a ricordarlo. Ah sì, il contratto. Quello che il potere di Capitol City doveva far rispettare. E così iniziò. Gentile dottoressa Gol, sono accadute tante cose dalla nostra ultima conversazione, ma quella conversazione ancora mi ispira ogni giorno. Il distretto 12 è un teatro eccellente da cui osservare la battaglia che si svolge tra il caos e il controllo, e come pacificatore dispongo di un posto in prima fila. Proseguì informandola di quanto aveva appreso dal suo arrivo. Della presenza di una tensione palpabile tra gli abitanti del distretto e le forze di Capitol City. Di come quella tensione fosse montata all'impiccagione del suo dilagare in rissa al forno. Mi ha ricordato i momenti che ho passato nell'arena. Una cosa è discutere della fondamentale natura dell'uomo in teoria. Un'altra è tenerne conto quando ti arriva un pugno in faccia. Solo che questa volta ero più preparato. Non sono convinto che siamo tutti intrinsecamente violenti, come dice lei, ma ci vuole molto poco per far venire fuori la bestia, quantomeno con il favore dell'oscurità. Mi chiedo quanti di quei minatori avrebbero tirato un pugno se Capitol City avesse potuto vederli in faccia. Sotto il sole di mezzogiorno, all'impiccagione, hanno mugugnato, ma senza avere il coraggio di battersi. Beh, è qualcosa su cui riflettere intanto che il mio labbro guarisce. Aggiunse che non si aspettava che lei rispondesse, ma le augurava ogni bene. Due pagine, brevi e gentili, che non pretendevano troppa attenzione, che non chiedevano niente, nemmeno scusa. Piegò risoluto la lettera, sigillò la busta e la indirizzò a lei presso la cittadella. Per evitare domande, specie da parte di Seianus, andò direttamente a imbocarla. Tanto non ho niente da perdere, pensò. A cena, la mortadella alla piastra arrivò accompagnata da salsa di mele e grossi pezzi di patate, che mangiò gustando ogni boccone del vassoio colmo. Dopo, Seianus lo aiutò a studiare per il test, senza però sbilanciarsi riguardo al suo interesse per la faccenda. Ci sono solo tre sessioni all'anno e una è questo mercoledì pomeriggio, disse Coriolanus. Dovremmo andarci tutti e due, se non altro per impratichirci un po'. No, non ho ancora afferrato bene tutta questa roba militare, ma credo che tu ce la possa fare, replicò Seianus. Anche se sei un po' incerto, con il resto andrai alla grande e magari il punteggio complessivo sarà abbastanza alto da passare il test. Vai, provalo prima di dimenticarti del tutto la matematica. Non aveva torto. Una parte delle conoscenze di geometria di Coriolanus sembrava già un po' arrugginita. Se tu fossi ufficiale, forse ti permetterebbero di studiare per diventare addirittura medico. Eri bravissimo in scienze, insistè Coriolanus, tentando di scoprire dove Seianus potesse avere la testa dopo la loro chiacchierata. Gli serviva proprio qualcosa di nuovo su cui concentrarsi. E a quel punto potresti aiutare le persone, come dicevi. Questo è vero. Seianus ci pensò su. Magari ne parlo con i dottori dell'ambulatorio, per capire come sono arrivati lì. La mattina seguente, dopo una notte di sogni strani che oscillavano tra lui che baciava Lucy Gray e lui che dava da mangiare ai serpenti della dottoressa Gol, Coriolanus aggiunse il suo nome alla lista dei candidati al test. L'ufficiale responsabile gli disse che il giorno dell'esame sarebbe stato formalmente esonerato dall'addestramento, il che da solo gli parve un incentivo a iscriversi, perché la settimana si preannunciava bollente. In realtà c'era dell'altro. Il caldo, certo, ma anche la monotonia della sua vita quotidiana avevano cominciato a dargli i suoi nervi. Se fosse riuscito a diventare ufficiale, gli sarebbero stati affidati compiti più stimolanti. La giornata portò due cambiamenti nella consueta tabella di marcia. Il primo cambiamento, ovvero che avrebbero cominciato a prestare servizio di guardia, suscitò poco entusiasmo, visto che l'incarico era ben noto per essere davvero noioso. Ciò nonostante, ragionò Coriolanus, preferiva appiantonare le camerate piuttosto che pulire pentole. Forse avrebbe potuto infilarci anche un po' di lettura o di scrittura. Il secondo cambiamento lo turbò. Quando si presentarono all'esercitazione di tiro, furono informati che la proposta di Coriolanus di sparare agli uccelli intorno alla forca era stata accettata. Prima, però, la cittadella voleva che catturassero un centinaio di ghiandaie, sia a chiacchierone sia imitatrici, e le mandassero al laboratorio vive per essere studiate. La sua squadra era stata scelta per aiutare a piazzare le trappole tra gli alberi quel pomeriggio, ragion per cui avrebbe lavorato con i ricercatori del laboratorio della dottoressa Gol. Quel mattino ne era arrivato un gruppo con un overcraft. Coriolanus aveva visto solo poche persone alla cittadella, ma l'idea di incontrare qualcuno venuto dal laboratorio, dove non c'era dubbio che tutti conoscessero i particolari del suo imbroglio con i serpenti e la vergogna che ne era seguita, lo metteva in agitazione. E poi gli venne un pensiero terribile. Di sicuro la dottoressa Gol avrebbe voluto supervisionare la cattura di persona, no? Mandarle una lettera dall'altra parte di Panem gli era sembrato quasi un gioco, ma tremava alla prospettiva di incontrarla faccia a faccia per la prima volta dopo la sua messa al bando. Mentre Coriolanus sobbalzava sul retro del camion, disarmato e in procinto di essere scoperto, tutto l'ottimismo derivato dal weekend svanì. Le altre reclute, felici di partecipare a quella che parevano considerare una gita scolastica, chiacchieravano allegramente intorno a lui, che invece era sprofondato nel silenzio. Seianus però comprese la sua ansia. «La dottoressa Gol non ci sarà», mormorò. «Se hanno coinvolto noi è un lavoro da tirapiedi». Coriolanus annui senza troppa convinzione. Quando il camion si fermò sotto l'albero degli impiccati, Coriolanus si nascose in fondo al gruppo di commilitoni, osservando con attenzione i quattro ricercatori di Capitol City nei loro assurdi camici bianchi da laboratorio, quasi fossero sul punto di scoprire il segreto dell'immortalità e non di catturare un branco di banalissimi uccelli a 40 gradi sotto il sole. Studiò ogni viso, ma nessuno gli parve neanche lontanamente familiare. E si rilassò appena. Il gigantesco laboratorio ospitava centinaia di ricercatori, e questi erano esperti di volatili, non di rettili. Salutarono i soldati con cordialità, suggerendo a ognuno di prendere una delle trappole di rete metallica, simili a gabbie, mentre spiegavano come allestirle. Le reclute eseguirono, raccolsero le trappole e si posizionarono sul limitare del bosco vicino alla forca. Seianus gli rivolse il pollice alzato per l'assenza della dottoressa Gol, e Coriolanus stava per ricambiarlo quando, in una radura più all'interno del bosco, scorse una figura. Una donna con un camice da laboratorio se ne stava lì, immobile, la testa inclinata di lato, mentre ascoltava il canto dissonante degli uccelli. Gli altri ricercatori attesero rispettosi che finisse e tornasse indietro, facendosi strada tra gli alberi. Quando la donna scostò un ramo, Coriolanus riuscì a vederla bene in viso, un viso che avrebbe potuto essere trascurabile se non fosse stato per i grandi occhiali rosa posati sul naso. La riconobbe all'istante. Era quella che lo aveva ripreso per aver disturbato i suoi uccelli quando si aggirava per il laboratorio, agitatissimo, tentando di fuggire dopo aver assistito al collasso di clemenzia in mezzo a un arcobaleno di pus. La domanda era, si sarebbe ricordata di lui? Si ingobbì ancora di più dietro la schiena di Smiley e sviluppò una grande attrazione per la sua trappola. La donna dagli occhiali rosa, che uno dei ricercatori presentò con un affettuoso, la nostra dottoressa Kay, li salutò amichevolmente, spiegando qual era la loro missione. Prelevare 50 ghiandai e chiacchierone e 50 ghiandai e imitatrici, ed esponendo come fare. Dovevano disseminare il bosco di trappole, che avrebbero contenuto cibo, acqua e richiami per attirare la preda. Le trappole sarebbero rimaste aperte per due giorni, in modo che le ghiandaie potessero andare e venire liberamente. Mercoledì sarebbero tornati a piazzare nuove esche e a predisporre le trappole per la cattura. Impazienti di rendersi utili, le reclute si divisero in gruppi da quattro, ognuno dei quali seguì uno dei ricercatori in un punto diverso del bosco. Coriolanus si allontanò con altri tre, al seguito dell'uomo che aveva presentato la dottoressa Kay, e si preoccupò di farsi nascondere dal fogliame il più in fretta possibile. Oltre alle trappole, portavano zaini che contenevano svariati tipi di esche. Percorsero un centinaio di metri e arrivarono in prossimità di un segno rosso tracciato su uno dei tronchi per indicare il loro punto di partenza. Guidati dal ricercatore, si sparpagliarono secondo una disposizione concentrica, lavorando a due a due per sistemare le esche nelle trappole e collocarle in alto sugli alberi. Coriolanus si ritrovò in coppia con Bug, che si rivelò uno scalatore provetto, visto che era cresciuto nel distretto 11, dove i bambini davano una mano nella cura dei frutteti. Passarono un paio d'ore affose ma produttive, con Coriolanus che caricava le esche e Bug che posizionava le trappole tra i rami. Quando tornarono a riunirsi tutti insieme, Coriolanus si defilò e andò a sedersi sul pianale del camion, esaminando le molteplici punture d'insetto finché tra lui e la dottoressa Kay si creò una certa distanza. Lei non gli aveva prestato la minima attenzione. Non fare il paranoico, pensò, non si ricorda di te. Martedì fu una normale giornata di lavoro, anche se Coriolanus usò le ore dei pasti e il breve intervallo prima del silenzio per ripassare in vista del test. Non vedeva l'ora di tornare da Lucy Gray, che continuava a scivolare nei suoi pensieri e che lui si sforzava di allontanare, promettendo a se stesso che si sarebbe gustato tutti quei sogni a occhi aperti una volta passato il test. Mercoledì si dedicò all'allenamento mattutino. A pranzo sedette da solo con il manuale per un ultimo ripasso. Dopodiché si recò nell'aula in cui di solito si tenevano le lezioni di tattica. Si erano iscritti altri due pacificatori, uno sulla trentina che diceva di aver sostenuto l'esame già cinque volte, e un altro che doveva avere più o meno cinquant'anni, età che sembrava un po' avanzata per cambiare vita. Affrontare gli esami rientrava tra i migliori talenti di Coriolanus, che avvertì la ben nota scarica di esaltazione quando aprì la copertina del suo fascicolo. Amava la sfida e la sua natura ossessiva gli offriva una concentrazione quasi istantanea sul percorso a ostacoli mentale che aveva davanti. Tre ore dopo, fradicio di sudore, sfinito e felice, consegnò il compito e andò in sala mensa a cercare del ghiaccio. Si sedette nella striscia d'ombra della sua camerata, sfregandosi i cubetti sul corpo e ripassando mentalmente le domande. Per un attimo si rammaricò della mancata carriera universitaria, ma respinse quel pensiero doloroso, immaginando di poter diventare un leader militare leggendario come il padre. Magari quello era il suo destino fin dall'inizio. Gli altri erano ancora fuori con i ricercatori della cittadella, a scalare alberi e azionare trappole, quindi andò a ritirare la posta per la sua camerata. Lo accolsero due pacchi giganteschi di maplint, con la promessa di un'altra notte di follia al forno. Li portò indietro, ma decise di aspettare il ritorno dei compagni per aprirli. Ma aveva mandato anche una lettera solo per lui, in cui lo ringraziava per tutto quello che aveva fatto per Sejanus e lo pregava di continuare a tenerlo d'occhio. Coriolanus posò la lettera, sospirando al pensiero di essere l'angelo custode di Sejanus. Sfuggire a Capitol City poteva aver momentaneamente alleviato il suo tormento, ma adesso Sejanus era già in crisi per i ribelli. Cospirava con Billy Taub. Si tormentava per la ragazza in cella. Quanto tempo sarebbe passato prima che facesse un'altra bravata come quella di entrare di nascosto nell'arena? E a quel punto tutti si sarebbero rivolti di nuovo a Coriolanus per tirarlo fuori dai guai. Il punto era che secondo lui Sejanus non sarebbe mai cambiato davvero. Magari era incapace di farlo, ma più che altro non voleva. Aveva già respinto ciò che la vita del pacificatore offriva, fingendo di non saper tirare, rifiutandosi di sostenere l'esame per aspiranti ufficiali, facendo chiaramente capire di non avere alcun desiderio di eccellere per conto di Capitol City. Il distretto 2 sarebbe sempre stato la sua casa. La gente dei distretti sarebbe sempre stata la sua famiglia. Per lui i ribelli dei distretti avrebbero sempre avuto una causa giusta dalla loro parte e Sejanus avrebbe avuto l'obbligo morale di aiutarli. Coriolanus avvertì dentro di sé una nuova sensazione di minaccia. A Capitol City aveva tentato di non dare peso al comportamento incauto di Sejanus, ma lì era diverso. Lì era considerato un adulto e le conseguenze delle sue azioni potevano significare la vita o la morte. Se avesse aiutato i ribelli avrebbe potuto ritrovarsi davanti a un plotone d'esecuzione. Cosa gli passava per la testa? D'impulso aprì l'armadietto di Sejanus, prese la scatola degli effetti personali e fece scivolare con cura il contenuto sul pavimento. Un mucchio di oggetti conservati per ricordo, un pacchetto di gomme da masticare e tre boccette di medicine prescritte da un medico di Capitol City. Due sembravano sonniferi, la terza era una boccetta di morfamina con contagocce, molto simile a quella che di tanto in tanto aveva visto usare dal decano High Bottom. Sapeva che Sejanus aveva assunto dei farmaci per il suo esaurimento, ma glielo aveva detto, però perché aveva portato lì proprio quelle medicine? Che ma gliele avesse infilate nella scatola per precauzione? Scorse il resto del contenuto. Un brandello di stoffa, cancelleria, penne, un pezzetto di marmo grossolanamente intagliato a forma di cuore e un mucchio di fotografie. I plint si facevano fare un ritratto ogni anno, quindi poteva seguire la crescita di Sejanus da neonato all'anno precedente. Tutte le immagini erano della famiglia, a eccezione di un vecchio scatto in cui compariva un gruppo di scolaretti. Coriolanus la prese per una foto della loro classe, ma non riconosceva nessuno e molti bambini indossavano logori abiti della misura sbagliata. Individuò Sejanus nel suo completo lindo, che sorrideva pensoso dalla seconda fila. Dietro di lui torreggiava un ragazzo che a Coriolanus sembrò molto più grande. Ma guardandolo più da vicino, il quadro si ricompose. Era Marcus. In una foto scolastica scattata l'ultimo anno che Sejanus aveva trascorso nel distretto 2. Non c'era nessuna traccia dei suoi compagni di Capitol City, neppure di Coriolanus. Per qualche ragione, quella gli parve la miglior conferma di dove Sejanus riponesse la sua lealtà. In cima al mucchio trovò una spessa cornice d'argento, nella quale, tra tutte le cose possibili, era racchiuso il diploma di Sejanus. Era stato tolto dalla sua bella copertina di pelle e messo in cornice, quasi dovesse essere esposto. Ma perché? Sejanus non l'avrebbe appeso mai e poi mai a una parete, nemmeno se avesse avuto una parete alla quale appenderlo. Coriolanus tastò la cornice, seguendone il metallo scurito e capovolgendola. Il pannello posteriore sembrava un po' storto e da un lato spuntava un minuscolo angolo di carta chiara. Questa non è soltanto carta, pensò cupamente, e fece scivolare i ganci per togliere il riquadro. Quando si staccò, un fiume di banconote nuove di zecca si rovesciò sul pavimento. Soldi. E parecchi anche. Perché mai Sejanus avrebbe dovuto portare con sé tanto denaro per la sua nuova vita da pacificatore? Che ma avesse insistito? No, non ma. Lei sembrava pensare che il denaro fosse la causa della loro infelicità. Strabo allora? Pensando che in qualunque cosa si fosse imbattuto il figlio, il denaro lo avrebbe protetto dai pericoli? Possibile, ma di solito Strabo gestiva di persona le mazzette. Che si trattasse di una cosa che Sejanus aveva fatto di sua iniziativa all'insaputa dei genitori. Questo pensiero era molto più inquietante. Poteva essere una vita di paghette messe da parte con cura per un momento difficile, ritirate dalla banca il giorno prima della partenza e nascoste nella cornice. Sejanus si era sempre lamentato dell'abitudine del padre di mettere mano al portafogli per tirarlo fuori dai guai, ma... E se gli fosse stato inculcato fin dalla nascita? Il metodo Plint per risolvere i problemi. Tramandato di padre in figlio. Sgradevole, ma efficace. Coriolanus raccolse le banconote, ne fece una pila ordinata con qualche colpetto e le passò rapidamente in rassegna. Erano davvero un mucchio di soldi. Ma a cosa potevano servire nel distretto 12, dove non c'era niente da comprare. O meglio, niente che il salario di un pacificatore non fosse in grado di pagare. Quasi tutte le reclute spedivano a casa metà del loro stipendio, visto che Capitol City forniva praticamente tutto quello di cui avevano bisogno, tranne la cancelleria e una serata al forno. Il forno aveva il suo mercato nero, ma al di là degli alcolici non aveva visto molto che potesse allettare un pacificatore. A loro non servivano conigli morti, lacci per le scarpe o saponette fatte in casa. E in ogni caso avrebbero comunque potuto permetterseli senza difficoltà. Naturalmente c'erano altre cose che era possibile comprare. Informazioni e mezzi di accesso e silenzio. Questione di bustarelle, di potere. Coriolanus sentì le voci dei suoi compagni che rientravano. Nascose in fretta al denaro nella cornice d'argento, avendo cura di lasciar spuntare un angolino di banconota. Rimise tutto dentro la scatola, che risistemò nell'armadietto di Sejanus. A loro arrivo, gli altri lo trovarono accanto ai pacchi di Ma, con le braccia allargate e un grosso sorriso, che chiedeva «Chi è libero sabato?». Mentre Smiley, Pertica e Bug aprivano i pacchi e scartavano i tesori contenuti al loro interno, Sejanus si sedette su un letto a osservarli divertito. Coriolanus si appoggiò alla branda sopra di lui. «Meno male che c'è tua madre, altrimenti saremmo stati tutti al verde!» «Sì, non avremmo avuto neanche un centesimo», concordò Sejanus. L'unica cosa che Coriolanus non aveva mai messo in dubbio era l'onestà di Sejanus. Anzi, semmai ne avrebbe gradita un po' di meno. Ma quella era una bugia sfacciata, pronunciata con la stessa naturalezza della verità. E questo significava che adesso tutto quello che Sejanus diceva andava preso con il beneficio del dubbio.